La mappa dei medici. Carenze in 51 comuni della provincia di Belluno. Ne servono almeno 42. Mancano 42 medici. Le ultime tabelle della regione Veneto dicono che a mancare sono anche i pediatri in 19 comuni del territorio. Sono tre i posti liberi. Queste tabelle ci sono state trasmesse ieri a noi giornalisti dal presidente dell'Ordine dei medici Stefano Capelli che è particolarmente preoccupato e con noi spesso manifesta questa sua sensazione, questo suo sentimento per le prospettive della sanità bellunese proprio in relazione alla carenza di figure professionali. L'articolo qui sul gazzettino di Belluno è a firma di Giovanni Santin. Non era necessario aspettare la comunicazione ufficiale della regione del Veneto, dice Santin, ma adesso l'allarme medici in provincia di Belluno ha nomi e cognomi, o meglio numeri e località. Vuol dire che si sapeva già che in prospettiva avremmo fatto i conti con questa carenza di medici, però adesso con le tabelle della regione sappiamo anche dove e come saremo in maggiore difficoltà. Ben 51 comuni della provincia di Belluno, ricordiamoci che ne abbiamo neanche 70, sono inseriti negli ambiti territoriali carenti di medici di medicina di base, cioè i medici di famiglia. Va meglio nel senso che la situazione è meno drammatica per quanto riguarda i pediatri di famiglia, i pediatri di libera scelta. In questo caso i comuni carenti sono solo, ma viene messo tra virgolette, 19. Per quanto riguarda i medici di assistenza primaria in provincia ne mancano 42, cioè i medici di famiglia, 3 i pediatri che servirebbero per soddisfare tutte le necessità, ma il vero problema è costituito dalla mancanza ormai cronica di professionisti. Ecco, adesso c'è l'elenco e io ve lo leggo. Nella zona costituita dai quattro comuni di Borca di Cadore, Cortiva d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore, mancano due medici e chi sceglierà di lavorare qui potrà aprire il proprio ambulatorio in uno qualsiasi di questi comuni, ma poi sarà a servizio dei pazienti di tutte e quattro le comunità. Fra le sei realtà di Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, i medici mancanti sono due. Per essi il vincolo è di aprire obbligatoriamente i due ambulatori a Domegge e a Cibiana. Due i medici necessari per le quattro comunità di Longarone, Ospitale di Cadore, Valdizoldo e Zoppe di Cadore. Quando diciamo questi nomi, amici che ci seguite, pensiamo geograficamente che cosa significano, di che posti stiamo parlando, perché la provincia di Belluno è fatta così, la provincia di Belluno quando dici Valdizoldo e Pellicadore non è che dici Pianura. Quindi due i medici necessari per queste quattro comunità, in questo caso i vincoli per l'apertura degli ambulatori sono Fortogna e Valdizoldo. Sette invece i professionisti che mancano, attenzione, ascoltate i posti, mancano sette professionisti per garantire il servizio ai dieci comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livino a Longo, Rocca Pietore, Selva di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe a Gordino, Falcade, Santo Maso a Gordino e Vallada a Gordina. Insomma posti che sono difficili da raggiungere, dove è difficile spostarsi per cercare un'alternativa al medico che mancherà. In questa zona il vincolo per gli ambulatori riguarda Alleghe, Cencenighe, Livino a Longo, Taibone e Voltago. Nei quattro comuni di Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverze, ne mancano due medici con vincoli di ambulatori a Castione e Limana. Nella Conca, che comprende al pago, chiesta al pago, Tambre, la carenza di medici conta tre professionisti, con un vincolo a Tambre, sono nove i medici necessari tra Cesio Maggiore, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico e Sospirolo. Nove con obbligo di un ambulatorio a Cesio Maggiore e due a Santa Giustina. Borgo, Valbelluna, necessita di un solo medico con obbligo di ambulatorio a Lentiai. Nel Feltrino, cinque i medici necessari per coprire le necessità di Arano di Piave, Feltrino, Pedavena, Quero Vassa, Seren del Grappa. L'obbligo riguarda l'apertura di due ambulatori a Lentiai. Infine, i tre medici attesi tra Arsie, Fonzaso, Lamon, Sovramonte, dovranno aprire un ambulatorio in ciascuno degli ultimi tre comuni. Tre, infine, pediatri mancanti, dicevamo, uno per la zona di Auronzo, Lorenzago, Lozzo e Vigo, parliamo del Cadore. Un secondo medico manca tra Borgo, Valbelluna, Cesio Maggiore, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico e Sospirolo. Il terzo nella zona dei comuni di Alano di Piave, Arsie, Feltrino, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vassa, Seren del Grappa e Sovramonte. E anche qui come territorio non si scherza assolutamente. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 31 maggio. Abbiamo cominciato così la rassegna stampa di Radio Piave in blu, condotta come sempre dai giornalisti e dell'Amico del Popolo. Vi conduco io tra le principali notizie. Oggi ho scelto di partire da questa pagina 5 del Gazzettino di Belluno per un motivo molto semplice, cari amici, e cioè io resto convintissimo che lo spopolamento in provincia di Belluno, di cui siamo afflitti da anni e anni, trovi una ragione, una causa anche nella carenza di servizi. E quale servizio più importante è sentirci sicuri dal punto di vista sanitario se uno sta male? Bene, le prospettive sono queste, cioè mancano tutte queste figure e le cose non miglioreranno in prospettiva. Quindi dobbiamo assolutamente mettere al centro anche delle nostre politiche questo tipo di problemi. C'è poco da fare. Sempre da questa pagina 5, già che ci sono, vi leggo questa notizia. Poi la mia raccomandazione è sempre la solita. Questi giornali dei quali vi facciamo qualche anticipazione qui in Rassegna Stampa, beh, bisognerebbe andare a comprarli perché noi adesso ci siamo serviti dell'articolo di Giovanni Santin per una cosa così importante, però c'è chi già ha lavorato dietro, insomma. Quindi grazie al Gazzettino che ci consente di darvi questa notizia, poi noi cerchiamo di essere bravi e coerenti. E questi giornali, Gazzettino, Corriere delle Alpi, il nostro, l'amico del popolo, siamo noi che vi forniamo questo servizio, per piacere ricordatevi anche che abbiamo bisogno del vostro sostegno con l'acquisto dei nostri giornali cartacei o anche digitale. L'amico del popolo è anche in digitale, come il Gazzettino, il Corriere, li sto leggendo in digitale in questo momento. Malore improvviso alla guida, si schianta a 75enne, è gravissimo. Si è accasciato sul volante mentre era alla guida della sua auto, colpito da un malore improvviso ed è finito contro il guardrail. Paura ieri pomeriggio in via Prade, cioè la zona, per capirsi, del cimitero grande di Belluno, quello storico. Sul cavalcavia nuovo, salvato in extremis un 75enne di cesio maggiore, che è stato rianimato sul posto, è ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva dell'ospedale San Martino di Belluno, ma è vivo. E non è poco, visto quanto è accaduto, erano le 14 quando è avvenuto il dramma sul cavalcavia che è intitolato a Santa Barbara. L'uomo, mentre procedeva alla guida della sua auto, è stato colpito da un infarto fulminante. Non ha avuto nemmeno il tempo di fermarsi, ha perso i sensi, l'auto ha proceduto la sua corsa andando a scontrarsi con il guardrail. Fortunatamente il pensionato procedeva a bassa velocità e l'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Immediatamente sul posto i vigili del fuoco del vicinissimo comando provinciale, perché adesso sono lì in via Coldarena, attaccati a questo cavalcavia, anzi il cavalcavia è stato fatto proprio per loro, per poter fare lo spostamento della caserma da Mossoia a via Coldarena. Intervenuti prontamente anche i sanitari che hanno iniziato subito le manovre rianimatorie, sono durate a lungo ma hanno salvato la vita all'automobilista. Il battito è ripreso, il 75enne è stato portato in codice rosso a San Martino e in terapia intensiva la prognosi è riservata. Il cavalcavia per consentire i soccorsi è stato chiuso nell'immediatezza dei fatti, si sono formate code con disagi per i pendolari. Adesso, se non avete già saputo, questo è il motivo. Allora, festa della Repubblica in anticipo, grazie agli studenti, parliamo degli studenti del Calvi, Segato, Bostolone e Ricci che hanno presentato il loro recital in prefettura. Qui l'articolo è a firma di Daniela De Donà, che salutiamo anche da qui. Ciao Daniela. Allora, vado alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. ACC, il titolone è questo, sull'ACC. Centinaia di operai fanno causa, perché sapete che c'è questo passaggio importantissimo dei lavoratori tra la Wambao ACC e la SEST, il gruppo Luve che ha acquisito la fabbrica, ci sono pendenze, ci sono questioni a mettere a posto. Questa, per esempio, i dipendenti della Wambao sono andati dall'avvocato per avere i soldi dalla proprietà cinese e dall'amministrazione straordinaria. Il loro credito riguarda il TFR, la tredicesima e le ferie. Avrà la precedenza, ma per quei due milioni saranno necessari mesi. L'articolo imprima il lancio. Gli ex lavoratori di ACC Wambao dovranno andare dall'avvocato per poter riavere i due milioni complessivi che avanzano tra TFR, tredicesima, ferie permessi sia dalla gestione cinese, per quei soldi erano già stati imputati al passivo, sia per i crediti legati alla gestione dell'amministrazione straordinaria. Crediti che godono di un trattamento migliore perché vanno pagati prima di quelli maturati ante procedura. Si tratta complessivamente, dicevamo, di due milioni che la procedura ricaverà dalla vendita a Walton delle linee produttive. Ricordate nei giorni scorsi abbiamo detto che ci sono questi operai del Bangladesh, tecnici, che stanno smontando le linee produttive dei compressori per portarsene via. Nei prossimi giorni sono previste riunioni con i sindacati. Sempre Scarton firma su quest'altra vicenda, per fortuna a lieto fine ieri, la firma ceramica Dolomite da Ideal Standard passa all'accordata Veneta. Nasce ufficialmente Ceramica Dolomite S.P.A., con questo marchio che tanto importante era stato nei decenni scorsi, anche per lo stile in provincia di Belluno. Ieri in banca fininta con Eliano è stato firmato l'accordo per l'accessione dello stabilimento di Borgo Valbelluna da Ideal Standard alla società partecipata dall'accordata di imprenditori veneti e noi sappiamo che abbiamo gli occhi puntati sul fatto che in quella accordata c'è Leonardo del Vecchio. Allora, altri titoli sotto la testata. Presentato Colussi, nuovo allenatore della DRL Belluno, Radarold Logistic, stiamo parlando di Pallavolo. Qui il giusto mix per puntare in alto. La squadra non nasconde l'ambizione di tornare più su. D'altra parte la Pallavolo nel capoluogo ha questa tradizione di militanza alta, compresa la A, che sarebbe bello riagganciare perché ci ha dato grosse soddisfazioni. Il personaggio, il vagabondo del tifo, da Lidz al campo di terza, Borgo Piave, personaggi che seguono il calcio. Calcio, Mosca, lascio il mio cuore a Belluno, capisco la società. Dopo la mancata conferma della Dolomiti Bellunesi, l'esterno a Gordino ripercorre i suoi 13 anni in una squadra che era la mia seconda famiglia, dice, quindi non c'è rimasto molto bene. La foto centrale riguarda la base dell'elicottero di Pieve di Cadoro. Sapete che in questi molti mesi l'elicottero, distanza del suo, 118, distanza all'ospedale di Pieve di Cadoro, è stato, è tutti i giorni a Belluno, all'ospedale di Belluno, perché? Perché a Pieve di Cadoro è stato necessario realizzare una piazzola nuova, sporgente rispetto al piano dell'ospedale, per allontanare l'area di decollo e di atterraggio dell'elicottero, allontanarlo dall'edificio dell'ospedale, perché era troppo vicino, non era più rispondente ai canoni di sicurezza. Si è rischiato di dover spostare via l'elicottero da Pieve di Cadoro. Invece, grazie alla volontà, anche alla tenacia dei Cadorini, il suo è menato lì, la base nuova è stata realizzata, la vedete in fotografia, chi ci segue su Facebook e su YouTube, è a sbalzo sul terreno, l'elicottero del Suem, ora la base c'è, è il titolo, ultimi passi in vista del taglio del nastro della nuova base per l'elicottero di Pieve di Cadoro. Da ieri al via, i lavori, nel piazzale adiacente alla nuova base EMS, che sarà pronta entro giugno. Bellissima notizia. Vuol dire che l'elicottero torna a risiedere nella parte alta della provincia. Vuol dire che le urgenze di quella parte alta avranno un intervento più tempestivo rispetto comunque ai 10 minuti, al quarto d'ora che ci può volere per salire da Belluno o anche di più in elicottero verso le parti più estreme della nostra provincia. Tra l'altro con il problema non da poco anche dei dislivelli da superare, questo è un elicottero grosso, ci vuole il suo tempo, la sua spesa anche, salire di quota. Da qui insomma ci sarà una possibilità di avere un soccorso più tempestivo partendo già in montagna e pensiamo all'ordinaria assistenza sanitaria, emergenza, ma anche alla grandissima quantità di voli che l'elicottero esegue in periodo turistico per andare a soccorrere chi in qualche modo si incarta sulle nostre crode. Scuola, meno di 1500 vanno alla maturità, strage di privatisti, strage è ovviamente tra virgolette in questi tempi in cui si vedono ben altre stragi in provincia di Belluno, in televisione dobbiamo ben stare attenti a usare questo termine in riferimento alla provincia di Belluno. Un anno fa gli studenti della provincia di Belluno pronti ad affrontare l'esame di maturità erano 1585, 41 quelli che si erano iscritti per sostenere le prove preliminari come privatisti. Quest'anno il numero degli interni è crollato da 1585 a 1487, 98 in meno, mentre dei 42 iscritti siccome privatisti solo la metà ha superato le prove scritte e orali. Il risultato è che il numero complessivo non arriva a 1500, questo è alla fine il conteggio. Ponte nelle Alpi vedremo la foto del Corriere delle Alpi con il parapendio finisce sui cavi elettrici, è stato salvato ma si è anche ustionato una gamba. A salvarlo è stata una donna che lo ha visto incocciare, rimanere appeso ai cavi elettrici, dice l'articolo di Santin. Erano da poco trascorse le 11.30 di ieri quando un parapendista è finito su una linea elettrica di media tensione a Casan di Ponte nelle Alpi. Il parapendista ha anche tranciato due dei tre cavi da 20.000 volt, c'è stata anche una fiammata, la donna le ha portato una lunga scala e lo ha fatto scendere, pensate un po'. Medici di base, Belluno in crisi, 8 comuni su 10, appunto lo dicevamo prima, questo è il lancio della notizia da cui sono partito con questa rassegna stampa, Rocca Pietro e addio a Luca, Luca Rudatis, morto a Pedavena, ragazzo gentile. Rocca Pietro ha salutato il Luca Rudatis, il 37enne figlio del barone, tra virgolette di Alleghe, trovato morto a Pedavena, un ragazzo gentile, lo hanno ricordato in molti. Belluno che va a elezioni, De Pellegrino, Livotto e Vignato, l'ora del confronto, il gazzettino con Confindustria ha messo i tre programmi a confronto, i più giovani, sempre parlando di elezioni, hanno meno di 20 anni e si candidano, così ci piacerebbe cambiare la città. E' bello vedere che anche i giovani si danno da fare per cercare di migliorare la nostra città-capoluogo. Dove si vota? Si vota anche a Feltre, si vota anche a Cortina. Diciamo che in questa tornata sono interessati pochi comuni, ma sono i più grossi. Dieci priorità per ripartire, viabilità sociale, rifiuti, ruolo di capoluogo, condizione giovanile, la svolta può arrivare dai grandi eventi, non soltanto grandi sogni, ma anche la gestione delle necessità quotidiane, dallo sfalcio al ponte Beilic, che su questo si confrontano oggi l'appuntamento alla LUIS di Confindustria e Gazzettino. Giovani e impegnati, siamo pronti a dare il nostro contributo alla città. Ci sono le foto di tre di questi giovani che si mettono a disposizione di tutti noi, bravissimi, e li ringraziamo. Poi esami, bocciati uno su due dei candidati privatisti, abbiamo detto prima, si fanno i conti sul Giro d'Italia, quasi 3 milioni di persone e sono stati davanti alla TV per la nostra tappa. Pensate che ricaduta, qua dice, oltre le aspettative, per il nostro territorio. Una pubblicità incredibile, una bellissima pubblicità. Andiamo avanti, Feltre, Comune Montafaretti Nuovi e i vandali li distruggono. Stupendo, roba da matti, come non deplorare anche da qui questo tipo di azioni. Come questa, d'altra parte, Feltre, entrano nella casa dell'anziana e la derubano. Domenica, ne mezzo, vittima una 84enne raggirata da un uomo e da una donna che si sono introdotti dalla cucina. La coppia avrebbe già agito nel Feltrino, si spacciano per collaboratori della parrocchia e vanno a rubare oro e soldi. Mi raccomando, attenzione, vergogna, assolutamente vergogna per queste persone. Andiamo a vedere altre pagine da questo giornale. Poi passiamo al Corriere delle Alpi, il parapendio finisce sui cavi elettrici, pilota miracolato, qui vedete la fotografia della vela attaccata al palo, della luce, però, santo cielo, poteva finire molto peggio. ACC, operai dall'avvocato per il TFR, qui c'è il lungo articolo a firma di Eleonora Scarton. Noi andiamo avanti, troviamo la piazzola del Cadore, ospedale, lavori sul piazzale, base per l'elicottero più vicina, lo trovate a pagina 11, vola fuori strada con l'auto, paura per l'ex vicesindaco, lungo il Cianà, dove è caduto per 5 metri l'ex vicesindaco Silver De Zolt. E poi l'intervista a Mosca, il calciatore, lascio qui, un pezzo di cuore. Dunque, Corriere delle Alpi, vi dicevo che la foto in prima pagina è quella del parapendio sul palo della luce, in parapendio sui cavi elettrici, Pontalpino, Miracolarto a Casan, qui il titolo è questo, si parla di scuola, ma non degli esami di maturità, come prima sul gazzettino, bensì dei dati del test invalsi, i test invalsi vengono fatti ogni anno nelle scuole di tutta Italia per verificare il livello di preparazione dei nostri ragazzi, sono dei test non finalizzati al voto, ma vedere proprio qual è il loro livello di preparazione. Bene, il titolone di apertura sul Corriere è questo, il Covid e la DAD affossano l'italiano tra gli studenti, le prove invalsi evidenziano un peggioramento nelle abilità dei ragazzi, problemi anche per la matematica, va meglio con la lingua inglese. Ma io qui sarei un po' dubbioso sulla correttezza di questo titolo, perché noi dagli invalsi ricaviamo il livello di preparazione dei ragazzi, ma non c'è una identificazione delle cause. Allora, qui rischiamo la retrotopia, si chiama, e cioè voler avere nostalgia del passato senza vedere i vantaggi anche del presente. la DAD sicuramente ha risolto molti problemi, non sempre sarà stata usata in modo corretto, bisogna anche vedere se dove ci sono più lacune non sia stata usata in modo inadeguato da chi ha il dovere di farlo, dalla parte dei ragazzi, dalla parte dei docenti, insomma, prima di dare la colpa così a queste cose. Chiaro che il periodo che abbiamo attraversato non è stato facile per nessuno. È l'italiano, la materia che risente di più della didattica a distanza imposta dalla pandemia da Covid, dice l'articolo, Paola Dallanese che firma, le criticità sono emerse maggiormente tra gli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori rispetto a quelli delle medie. A dirlo sono i numeri delle prove invalsi 2021 che hanno interessato in provincia il 95% degli studenti. Sotto i riflettori sono finite tre materie, italiano, matematica e inglese. se gli studenti bellunesi escono piuttosto bene dal raffronto con i colleghi del Veneto e anche del resto d'Italia è anche vero che rispetto agli anni precedenti il 2021 evidenzia parecchie criticità. Vabbè, vedremo. Vedremo nel senso che vedremo anche i risultati di quest'anno cosa diranno rispetto al 2021. Sempre meno medici di base, alcuni servizi vanno tagliati. L'allarme dell'ordine vi dicevo ieri che il presidente dell'ordine ci ha fornito questi dati. Ceramica Dolomiti riparte e Del Vecchio dice Grazie Veneto. Leonardo Del Vecchio che è dell'accordata degli imprenditori che rileva l'azienda ha detto sono felice di contribuire al rilancio di un'azienda specie nel Veneto che è stato così generoso con me. È incredibile quest'uomo che ha dato tantissimo alla nostra terra che continua a ringraziare noi per tutto quello che abbiamo dato a lui. Sedico costi energetici in impennata il comune ritocca il bilancio titolo di taglio basso lavori non previsti un altro rinvio per la biblioteca parliamo di Belluno parliamo del palazzo Crepadona bellissimo dove c'è questa nuova struttura che dovrebbe rendere accessibile il cortile interno e fa un po' fatica a decollare questa cosa un nuovo intervento ritarda il già complicatissimo calendario dei lavori della Crepadona a cantiere sostanzialmente ultimato il comune ha deciso di intervenire anche sulla facciata sul rientro della biblioteca nei suoi spazi pesano anche i dubbi sul consegna degli arredi e qui a firmare è Forzin pagina 17 allora io vi saluto qui grazie per l'attenzione grazie per tutti i saluti che ci scrivete su Facebook tra poco vi rispondo io vi auguro una buona giornata un buon martedì 31 maggio da Luigi Guglielmi anche a nome ovviamente dei miei colleghi ciao a tutti grazie un abbraccio grazie per l'attenzione